E' nata ormai da qualche giorno ad Andrea l'Unità Interventi Speciali Covid-19 della Misericordia. Obiettivo della confraternita andriese con i suoi volontari è quello di assicurare una adeguata assistenza alle persone colpite dal virus e che sono in isolamento domiciliare. L'unità potrà essere attivata direttamente dai cittadini che ne faranno richiesta ma anche dalle istituzioni e cioè dal comune o dagli uffici sanitari. Si combatte anche così il virus sul territorio grazie all'impegno di tanti volontari di protezione civile e non solo impegnati in questa lunga battaglia quotidiana contro il Covid-19 e dopo gli appelli degli scorsi giorni sono stati già una trentina i nuovi volontari che si sono avvicinati alla misericordia di Andrea e che hanno iniziato l'attività di formazione per essere già pronti ad operare sul territorio a breve. Per l'Unità Interventi Speciali invece dopo un'ulteriore specifica formazione effettuata dal centro regionale delle misericordie di Puglia vi sarà il compito di igienizzazione degli ambienti in cui vivono o sostano le persone colpite dal virus ma anche la rilevazione dei parametri essenziali per il Covid-19 come la saturazione o la glicemia, segnalazione immediata in caso di pazienti che dimostrano segnali di criticità, informazione specifica per la prevenzione anti-Covid-19, costante monitoraggio della sala operativa della misericordia per eventuali supporti ulteriori oltre a prestazioni professionali come quelle di ossa e infermieri ma l'attività della misericordia si arricchisce anche con un nuovo servizio nato all'interno dell'ambulatorio solidale Noi Con Voi. È attivo infatti lo sportello d'ascolto che assicurerà un servizio di supporto psicologico e ascolto attivo alle persone con disagio emotivo e difficoltà socioassistenziali relativamente alla gestione di ansia, stress, paura soprattutto in questa attuale fase di emergenza. Professioniste specializzate e offriranno gratuitamente il proprio servizio anche a distanza sarà possibile chiedere un appuntamento ed essere messi in contatto con psicologo e assistenti sociali a seconda del tipo di richiesta ed effettuare un colloquio telefonico a distanza attraverso le piattaforme digitali individuate come Skype o Zoom.